Cominciamo dall'ariete. Con le stelle dalla vostra parte non dovrete far nessuno sforzo per conquistarvi fortuna e simpatia. La maggior parte di voi si sentirà traboccare d'amore e ardere di passione. Toro, l'intuito sarà la vostra migliore guida per districarvi avilmente in una faccenda finanziaria che desta qualche preoccupazione. E in amore? Dinamicissimi e pieni d'entusiasmo sarete in perfetta forma per una serata elettrizzante. Gemelli, come recita un noto proverbio, la calma è la virtù dei forti. Siatelo anche voi. Pare che per molti di voi non sarà facile oggi mantenere l'umore stabile e vivere serenamente. Cancro, non potrete defilarvi da un problema che si sta rivelando più complesso del previsto. In serata, un po' di relax, magari con aiuto di qualche tecnica di rilassamento, sarà un tocca sana. Frequentate persone che vi fanno stare bene. Leone, non mancheranno le occasioni per divertirvi e sentirvi bene in compagnia di conoscenti e amici. Ci saranno anche opportunità in campo scolastico e professionale, se avete in programma prove e affari di una certa importanza. Vergine, la famiglia sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Sbrogliare la matassa certo non sarà facile, ma potrete sempre contare sul buon senso che vi caratterizza e su una trovata geniale e risolutiva. Bilancia, siete in forma e guardate la vita con più ottimismo. Bravi, grazie alla vostra curiosità avete l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale. Scorpione, se ce la metterete tutta in questa giornata potrete realizzare qualcosa di importante. Sì perché oggi gli intoppi non mancheranno nella sfera privata come in quella professionale. Sagittario, tutto procede a gonfie vele, soprattutto sul lavoro, ma nei sentimenti perché non decidersi a mettere le cose in chiaro e progettare qualcosa di più serio con quella persona che vi piace tanto. Accettate un invito serale. Capricorno, si accumulano impegni e disguidi di vario genere e nonostante la vostra efficienza per far fronte a tutto, le vostre energie cederanno sensibilmente. Acquario, buon umore, ottimismo e gioia di vivere compiranno consistenti passi in avanti. Vi sentirete in armonia con voi stessi e in pace con il resto del mondo e questo non potrà che facilitare le iniziative in calendario. Pesci, troppo agitato il vostro quadro astrale odierno per ipotizzare tranquillità e risultati soddisfacenti. Dovrete affrontare seriamente problemi di vario genere, per alcuni finanziari, per altri lavorativi. Grazie a tutti.